Quando vedi per la prima volta l'ombra sepolta. Ma il sole non mostra mai pietà. Eppure, quando il sonno si rifiuta di raggiungermi, ripensò alla nostra notte di nozze. Ma come mi hai accolto sul letto con lui, ogni mattina mi sveglio con lo stesso incubo. La stessa... Finché il re Itamen languirà al tramonto, viziato dalla madre. Finché il re Itamen languirà al tramonto, viziato dalla madre. Non imparerà mai la vera lezione del sole. Ho tentato di istruirla, ma su di lui vende l'ombra dell'influenza di sua madre. Un giorno l'ho portato dopo a colo del palazzo. È un fanatico, chiaro. Un fissato. Gli dà una determinazione che tu non hai. Perché non cerchi quel collo lungo? Non sarebbe stato più semplice trascinare il collo lungo di qua? Perché tanta fatica? Pensa a trovarlo e raggiungi la cima. Distruggi il modulo e poi fatene più in fretta che puoi. Ci sono parecchie esplosioni quassù. Si danno da fare. Abbastanza da non notarti, speriamo. Lo vedo. Gli hanno costruito attorno una specie di struttura. Arrampicati. Prima lo farai, meglio sarà. Non mi piace. È... strano. Qui è tutto strano. Raggiungi quel modulo e distruggilo. Raggiungi quel modulo. Vedo il modulo. Bene. Ora veloce. Questo... questo è Abe. Aloy, non è il momento. È... un demone di metallo. Apri la custodia del modulo. Ora! Aloy, fa come ti dico o sarà la fine. L'entità è venuta qui. L'entità ha sbagliato. L'entità non può distruggermi. Non può raggiungermi. Forse io no. Ma questa sei... Distruggere l'entità! Ah! Ah... Ah! 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 Avanti, corri! Altro, sei chiaro degli audaci. Non fermarti. Ma davvero? Cosa credi stia facendo? Un pisolino? Sembra facile. Ancora uno sforzo. Cosa? Non lottare, scappa! Forza! A sinistra all'accampamento. Va bene. Ci sono quasi! Certo sangue! L'intera base è in allerta. Sì, ho notato. Non fermarti! Uomini dell'eclissi! Fonte in vista! Quella è l'uscita! Lo so! Uomini dell'eclissi! Uomini dell'eclissi! Cosa! È stata dura, ma sei viva. Sapevi che Ade era lì e mi hai mandato lo stesso! Ho messo a rischio la tua vita, sì. Ma era l'unico modo. Con la rete dei Focus disattivata raggiungeremo l'obiettivo. L'accesso ai segreti di Zero Dawn. Ho smesso di confidarti i miei segreti. Bene. Significa che stai maturando. La fiducia è per gli stolti. Muten si sgretola come la sabbia. Una base debole per qualsiasi alleanza. Ma avere uno scopo comune. Getta fondamenta solide su cui costruire insieme una nuova scienza della comprensione. Ci servono risposte, Aloy. Grazie a te siamo sul punto di ottenerle. Va a tramonto. Parleremo lì. Ma brutto! Maledetto! Se potessi liberarmi del Focus e di te e Silence, lo farei. Ma sappiamo entrambi che mi serve. E tramonto sia... e Zero Dawn. Ma buona! A presto! Grazie a tutti.